Annalisa Mennella, Diocesi di Livorno, sono a Firenze come incaricato di pastorale giovanile diocesana e quindi dopo un percorso fatto con i giovani della diocesi abbiamo deciso di partecipare perché sostanzialmente crediamo che il convegno, soprattutto questa nuova tematica, debba essere l'impulso, gli input per tutti i giovani d'Italia. Grazie.